Che cosa sono i Docker Volume e perché usarli? Ciao, io sono Michele e in questo video vediamo a cosa servono e come usare i volumi in ambito containerizzato, in particolare Docker. Tu che esperienza hai con i volumi Docker? Fammelo sapere nei commenti. Molto probabilmente saprai che il file system all'interno di un container è effimero, e che significa che quando ci facciamo delle scritture, queste non persistono, non durano quando il container viene distrutto. E quindi dobbiamo trovare delle strategie e utilizzare delle tecniche per salvare i dati nel caso il nostro programma avesse la necessità di farli persistere oltre la distruzione di un container. Ma prima di proseguire, mi raccomando, se ti piace questo video, metti un mi piace e iscriviti al canale, così sarai notificato sui nuovi contenuti. Per superare il limite di un file system effimero del mondo all'interno del container, dobbiamo salvare i dati all'esterno del container stesso. E abbiamo principalmente due strategie per poterlo fare. Il primo è utilizzare i Docker Volume e il secondo di utilizzare, ma non magari in ambienti di produzione, però per fare dei test, quelli che sono i bind mount. Ah, quasi dimenticavo. Quando facciamo, quando progettiamo un'applicazione che viene gestita all'interno di container, non dobbiamo mai dare per scontato che i file appunto che salviamo nel file system all'interno del container resistano, perché all'interno del mondo di applicazioni containerizzate un container potrebbe morire in un momento o all'altro, soprattutto quando siamo in contesti gestiti da orchestratori. Per i più disparati motivi, per recuperare risorse, perché stiamo affrontando uno scale down o perché semplicemente l'orchestratore decide di prendere un container e farlo eseguire su un altro nodo. Quindi mai progettare un'applicazione considerando che il file system del container sia di lunga durata, mi raccomando. Eccoci dentro Visual Studio Code, ho preparato un po' di comandi per vedere la gestione dei volumi, cioè o meglio, vedere i benefici dei volumi direttamente in uso e anche del bind mount. Ma partiamo dai volumi, quindi quell'unità, quello storage gestito dal Docker Container Engine nel suo spazio privato. Allora, lancio un SQL Server 2022, ci creerò un database all'interno, distruggerò il container e dopo lo ricreeremo e vediamo che il volume ha persistito il dato, quindi il database che io sono andato a creare. Lancio, come faccio? Lancio il mio Docker Run, nome SQL2022, espongo la porta 1433 che è quella di default SQL Server, creo un volume, perché se non esiste viene creato al volo, che si chiama SQL Volume e lo mappo sul path varo.pt Microsoft SQL del container. Accetto i termini di servizio, metto la password dell'utente di amministrazione in modalità detached e pulisco subito il container, lo rimuovo quando lo stoppo in automatico. Quindi prendo questo, eseguo, container che parte, ho qui SQL Management, mi collego, faccio una nuova connessione con la password, 567890, punto esclamativo, mi sono collegato, lo vediamo qui, ha anche il simbolo proprio del pinguino, stiamo facendo girare un SQL Server 2022 su un container Linux, database, creo un nuovo database, lo chiamo demo-volumi, demo-volumi, questo nome è osceno, demo-volumi, ecco, sì, benissimo. A questo punto ci creo anche una tabella, la facciamo così, alla vecchia, create table dbo.demo, facciamo id int primary key, giusto per avere una tabella, benissimo. Adesso stoppo il, mi disconnetto, chiudo qui, chiudo qui, stoppo il container con Docker stop SQL 2022, si è fermato, lo rieseguo, rieseguo un nuovo container a partire dalla stessa immagine utilizzando lo stesso volume, vado a riconnettermi di nuovo con 1234567890, punto esclamativo, ed ecco che ritrovo il mio database demo-volumi con la tabella che ho creato, quindi eccola qui, dbo.demo e il mio database. E quindi ho persistito il dato e questo abbiamo visto in uso i volumi. Ci sono vari comandi per consultare i volumi, tipo c'è tutto qui, docker volume meno meno help e io posso vedere tutti i comandi, come per esempio posso creare un volume, posso fare l'inspect, quindi per esempio docker inspect SQL volume, mi dà delle informazioni di quando è stato creato, che è locale, il mount point all'interno del vsl che in questo momento mi sta facendo la virtualizzazione per i container docker e così via. Posso fare la lista docker volume ls, posso fare docker rm per rimuoverlo e distruggerlo, ma in questo momento non voglio, me lo tengo, lo lascio lì. Passiamo ai bind mount. Per quanto riguarda i bind mount, quindi è quella metodologia che ci permette di agganciare un specifico path del sistema operativo host, in questo caso quindi della mia macchina, un file system locale del mio pc, con un percorso all'interno del container. In questo caso vado ad utilizzare un bind mount per andare a cambiare l'home page di quello che è nginx. Cosa succede? Allora, proviamo senza, no? Faccio così e lo eseguo. Mi parte un nginx, ops, facciamo così, meglio. Mi parte un nginx che posso consultare su porta 8080, faccio localhost 8080, eccolo qui. Adesso gli cambio, questo lo posso distruggere, faccio un docker stop e in automatico viene buttato via. Faccio il bind mount, quindi andando ad agganciare ctemp nginx dove ho creato una mia home page custom che è precisamente questa, una home page banale con scritto demo dentro e me la voglio trovare. Quindi f8, riapro il browser, localhost 8080, f5, f5, f5 e abbiamo la demo. Eccolo qui. Quello che posso fare, essendo direttamente un file nel mio file system, così, posso cambiarlo al volo. Scrivi demo2, salvo. Se vado ad aggiornare la pagina, ecco demo2, quindi lettura e scrittura su un percorso del mio disco. Benissimo, eccoci qua. Allora per oggi, per quanto riguarda docker e i volumi, ci fermiamo qui. Abbiamo visto come utilizzare bind mount e volumi per fare resistere i dati oltre il ciclo di vita del container stesso. Spero che queste cose possano esserti utili e ti aspetto al prossimo video. Ciao!